Dante dedica la maggior parte del secondo canto del paradiso alla spiegazione del fenomeno delle macchie lunari e lo fa non tanto per spiegare il fenomeno stesso quanto per fornire al lettore il modo corretto per interpretare ciò che scriverà successivamente in tutta la cantica. Da subito ammonisce però chi si trovi in piccioletta barca, ovvero in una barca piccola, cioè chi non ha le conoscenze teologiche necessarie a tornare a riva e a non seguirlo più nell'attraversamento di un macchie pericoloso e che prima di lui mai nessuno aveva attraversato. Beatrice chiede al poeta quale sia la sua opinione sull'origine delle macchie lunari e Dante le risponde con le stesse argomentazioni che aveva fornito nel convivio, ovvero che le macchie sarebbero dovute a differenze nella densità della materia di cui è fatto l'astro. Si tratta di una spiegazione dettata dalla ragione che Beatrice prima confuta con argomenti di tipo fisico e questa la pars destruens, cioè la parte che distrugge la tesi di Dante, per poi dare la corretta spiegazione del fenomeno e questa la pars construens, ovvero quella metafisica collegata alla teoria degli influssi celesti già accennata nel primo canto. Allegoricamente Dante ci vuol dire che la sola filosofia, oggi la chiameremmo scienza, non è adeguata ad affrontare questo tipo di questioni, che invece possono essere spiegate solo con l'aiuto della teologia, data ovviamente da Beatrice. Riporre un'eccessiva fiducia nella ragione umana era stato proprio l'errore fatto dal poeta nella stesura del convivio. Errore a cui vuole rimediare appunto con la divina commedia. Dopo aver confutato la teoria di Dante dal punto di vista della fisica, Beatrice fornisce al poeta la vera ragione dell'esistenza delle macchie lunari, riconducendola alla teoria generale degli influssi celesti. La spiegazione è la seguente. Dal primo mobile nasce una virtù divina indistinta che scende nel cielo delle stelle fisse, l'ottavo cielo, dove si distribuisce alle singole stelle. Questa virtù continua poi la sua discesa verso i cieli sottostanti dove le intelligenze angeliche che fanno ruotare i cieli stessi la infondono nella materia di ogni astro, nella materia di cui è composto ogni astro. Materia che risplende in modo più o meno intenso a seconda di come la virtù si lega alla materia stessa. Così come, dice Beatrice, la gioia si manifesta in maggiore o minor misura negli occhi delle persone. E questo è il motivo per cui, conclude la donna, alcune stelle sono più splendenti di altre e per cui la luna ha delle macchie scure in alcune sue parti. Come abbiamo già detto, si tratta di una ragione metafisica che non può essere resa in modo scientifico poiché i sensi umani non potranno mai comprendere ciò che va oltre l'intelletto. Qualunque altro tipo di spiegazione destinata al fallimento, così come il viaggio folle di Ulisse, terminò col naufragio, indirettamente evocato dal poeta all'inizio del canto nell'immagine della piccioletta barca. Molto bene, questo è tutto. Spero che questo video vi sia utile. Un grande in bocca al lupo per i vostri studi. Alla prossima! Grazie! Grazie!